Santoro, lei è andata all'università o ha fatto le serali? E' andata all'università? E allora, non dica queste cose che non c'è. Non so come ha fatto lei, io la mia università l'ho fatta. Senta, io le voglio dire. Anche se ho studiato tutto, anche quando lei vendeva le figurine. Vorrei, vorrei, sì, io in effetti partendo da zero ho messo insieme 56.000 persone.